Lezione 1. È stato un piacere conoscerti. Ciao, scusami, qual è il tuo nome? Salve, mi chiamo Sara. Qual è il tuo nome? Mi chiamo Alex. Piacere di conoscerti, Sara. Anche per me è stato un piacere conoscerti, Alex. Allora, cosa ti porta qui oggi? Sto solo facendo delle commissioni. Che ne dici di te? Devo incontrare un amico per un caffè. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ci siamo incontrati, quindi non vedo l'ora. Sembra carino. Allora, vivi qui? Sì, lo so. Vivo in questo quartiere da alcuni anni ormai. Che ne dici di te? Vivo a pochi isolati di distanza. È un'ottima zona con molti negozi e ristoranti. Sì, adoro questo quartiere. C'è sempre qualcosa da fare o da vedere. Sicuramente. Beh, è stato un piacere conoscerti, Sara. Forse ci incontreremo di nuovo qualche volta. Anche per te, Alex. Buona giornata. Lezione 2. Guardare un film. Ehi, hai visto il nuovo film che è appena uscito? No, non l'ho fatto. Che film è? È una commedia chiamata Good Vibes. Stavo pensando di vederlo questo fine settimana. Vuoi unirti a me? Certo, sembra divertente. Quando pensavi di andarci? Che ne dici se andiamo domenica sera? Il film inizia alle 19. A me sembra una buona idea. Dove vuoi incontrarci? Incontriamoci a teatro alle 18.45 così abbiamo tempo per prendere i biglietti e gli snack. Va bene, per me funziona. Non vedo l'ora. Anch'io. Ci vediamo domenica a teatro. Ci vediamo allora. Lezione 3. Esci a cena stasera. Ehi, vuoi andare a mangiare fuori stasera? Certo, dove vuoi andare? Che ne dici di quel nuovo ristorante italiano in centro? Suona bene. Sai come arrivarci? Sì, penso che possiamo prendere l'autobus o andare lì. Quale preferisci? Prendiamo l'autobus. È più comodo e non dobbiamo preoccuparci di trovare parcheggio. Ok, è una buona idea. Sai quale autobus dobbiamo prendere? Fammi controllare gli orari sul mio telefono. Sembra che dobbiamo prendere l'autobus 34 dalla fermata di Main Street. Ok, incontriamoci alla fermata dell'autobus davanti alla caffetteria alle 18 e 30. Sembra un piano. Ci vediamo allora. Lezione 4. Hai mai giocato a basket? Ehi, hai mai giocato a basket prima? Sì, giocavo un po' al liceo. Perché me lo chiedi? Stavo pensando di riunire un gruppo per giocare a basket al parco questo fine settimana. Vuoi unirti a noi? Sembra divertente. A che giorno e a che ora stavi pensando? Che ne dici di sabato pomeriggio? Potremmo incontrarci al parco intorno alle 14. Per me funziona. Chi altro sta giocando? Solo alcuni amici dal lavoro. È principalmente solo per divertimento ed esercizio fisico. Ottimo, conta su di me. È da un po' che non gioco, ma sarà bello fare un po' di esercizio e stare al passo con tutti. Fantastico, sono contento che tu venga. Ci vediamo al parco sabato alle 14. Lezione 5. Dove vivi? Allora, dove vivi? Vivo in un piccolo appartamento vicino al centro della città. Che ne dici di te? Vivo in una casa in periferia, non troppo lontana da qui. Sembra carino. Ti piace vivere in periferia? Sì, è più silenzioso della città e ho più spazio. Ma a volte mi manca essere più vicino a tutti i ristoranti e alla vita notturna. Posso capirlo. Adoro vivere vicino alla città perché c'è sempre qualcosa da fare, ma può essere un po' rumoroso e affollato. Sì, posso vederlo. Ma almeno non devi preoccuparti del parcheggio o del traffico come faccio io in periferia. Questo è vero. E vivere in un appartamento significa che non devo preoccuparmi dei lavori in giardino o della manutenzione come si fa in una casa. Sì, può essere un po' un problema. Ma mi piace avere il mio giardino e poter organizzare barbecue e riunioni con amici e familiari. Sembra carino. Forse un giorno avrò anche una casa con un cortile. Lezione 6. Che lingua parli? Scusami, che lingua parli? Parlo inglese. Posso esserti utile in qualcosa? Oh, ottimo. Me lo stavo chiedendo perché ti ho sentito parlare con qualcun altro e non riuscivo a capire bene in che lingua fosse. Ah, capisco. In realtà parlo alcune lingue, quindi è possibile che stessi parlando qualcosa di diverso dall'inglese. Da dove vieni? Vengo dalla Germania, ma ho viaggiato un po'. Non parlo correntemente l'inglese, quindi cerco sempre qualcuno che lo parli bene. Beh, sono felice di aiutarti se ne hai bisogno. Parlo anche altre lingue, come lo spagnolo e il francese. Wow, è impressionante. Come hai imparato tutte quelle lingue? Sono cresciute in una famiglia bilingue, quindi ho imparato due lingue fin da giovane. Poi ho studiato spagnolo e francese a scuola, e ho passato un po' di tempo anche in quei paesi, il che mi ha aiutato a diventare più fluente. Davvero figo. Vorrei aver imparato più lingue quando ero più giovane. Non è mai troppo tardi per iniziare. Puoi sempre seguire lezioni o fare pratica con i partner di scambio linguistico. Questo è un buon punto. Forse darò un'occhiata a questo. Grazie per il consiglio. Nessun problema. Felice di aiutarti. Buona fortuna con l'apprendimento della lingua. Lezione 7. Lei studia l'università qui? Ehi, sono solo curiosa. Studia l'università qui? Sì, lo so. Sono al terzo anno di studio di psicologia. È davvero interessante. Cosa ti ha fatto decidere di studiare psicologia? Sono sempre stato interessato a come funziona la mente umana, e a come pensiamo e ci comportiamo. La psicologia mi sembrava il campo perfetto per esplorare questi argomenti. Questo ha senso. In realtà sto pensando di tornare a scuola anch'io. Non sono ancora sicuro di cosa voglio studiare. Hai preso in considerazione dei campi in particolare? Mi interessano gli affari e l'economia, ma sto anche considerando l'informatica. Semplicemente non so quale seguire. Bene, è importante pensare a ciò che ti appassiona, e a cosa potresti immaginare di fare per una carriera. Hai esaminato le prospettive di lavoro in questi settori? Sì, l'ho fatto. Entrambi i settori offrono buone opportunità di lavoro, ma penso di aver bisogno di fare più ricerche e parlare con le persone che lavorano in quei campi per avere un'idea migliore di com'è veramente. Questa è una buona idea. Dovresti anche prendere in considerazione la possibilità di frequentare alcuni corsi o workshop in entrambi i campi per vedere quale ti piace di più. Questo è vero. Grazie per il consiglio. Lo apprezzo. Nessun problema. Buona fortuna con la tua decisione. Lezione 8. Sentirsi nervosi per il colloquio di lavoro. Ehi, ho un colloquio di lavoro domani e sono un po' nervosa. Questo è comprensibile. Per quale lavoro stai facendo un colloquio? È una posizione di marketing presso un'azienda di software. Voglio davvero questo lavoro, ma temo di rovinare il colloquio. Fai solo dei respiri profondi, e ricorda che ti sei preparato per questo. Hai le competenze e l'esperienza che stanno cercando, altrimenti non ti avrebbero invitato a un colloquio in primo luogo. Lo so, ma temo di dimenticare cosa dire o di imbattermi nelle mie parole. Questa è una paura comune, ma ricorda che va bene dedicare un momento a raccogliere i tuoi pensieri prima di rispondere a una domanda. E se non conosci la risposta a una domanda, va bene dire che non sei sicuro ma farai del tuo meglio per scoprirlo. Questo è vero. Voglio solo fare una buona impressione e dimostrare loro che sono la persona giusta per il lavoro. Sii te stesso e mostra il tuo entusiasmo per la posizione. E ricorda che non si tratta solo di intervistare te, ma anche di essere tu a intervistarli per vedere se l'azienda è adatta a te. Questo è un buon punto. Grazie per il consiglio, ora mi sento un po' meglio. Nessun problema, ce l'hai. Fai dei respiri profondi, dormi bene e mostra loro cosa hai domani. Buona fortuna. Lezione 9. Fiducioso per l'esame di domani Ehi, ho un esame domani e mi sento davvero fiducioso. Studio da settimane e penso di essere ben preparato. È bello sentirlo. A cosa serve l'esame? È per il mio corso di biologia. Saremo testati sull'anatomia e la fisiologia umana. Wow, sembra un esame duro. Ma è bello che tu ti senta sicuro. Cosa hai fatto per prepararti? Mi sono assicurato di frequentare tutte le mie lezioni e di prendere appunti accurati. Inoltre, esaminavo il materiale ogni giorno e facevo domande pratiche per testare le mie conoscenze. Ho anche creato delle flashcard per aiutarmi a memorizzare termini e concetti importanti. È davvero un'ottima strategia. Sono sicuro che supererai bene l'esame. Assicurati solo di dormire bene e di fare una sana colazione domani. Sì, ho intenzione di farlo. Non vedo l'ora di togliermi di mezzo questo esame e passare alla prossima cosa. So cosa intendi. È sempre un sollievo finire un esame o un progetto importante. Cosa hai in programma dopo l'esame? Beh, ho qualche altro incarico da fare entro questa settimana, quindi probabilmente inizierò a lavorarci. Ma non vedo l'ora di prendermi una pausa e fare qualcosa di divertente. Sembra un buon piano. Assicurati solo di premiarti per tutto il tuo duro lavoro durante l'esame. Buona fortuna domani, sono sicuro che te la caverai alla grande. Lezione 10. Quanti bambini hai? Salve, scusami, posso farti una domanda? Quanti bambini hai? Salve. Non mi dispiace che tu me lo chieda, ma in realtà non ho figli. Che ne dici di te? Oh, capisco. Beh, nemmeno io ho figli. Forse un giorno però. Sì, non si sa mai cosa ci riserva il futuro. Hai nipoti o nipoti? Sì, in realtà ho un nipote che ha appena compiuto due anni. È molto divertente stare con lui. Questo è fantastico. Ho una nipote di quattro anni. È sempre piena di energia e mi tiene allerta. Scommetto che ce l'ha. È sempre divertente passare del tempo con i bambini e vedere il mondo attraverso i loro occhi. Sicuramente. I bambini hanno una prospettiva unica sulle cose. Possono far sembrare eccitanti anche le attività più banali. È così vero. Beh, è stato bello parlarne con te. Forse possiamo parlarne di più la prossima volta. Certo, sembra una buona idea. Vi auguro una buona giornata. Lezione 11. Il modo per mantenere il corpo sano e in forma. Salve, non ho potuto fare a meno di notare che hai con te una borsa da ginnastica. Ti alleni spesso? Ciao. Sì, cerco di rimanere attivo, e di allenarmi almeno un paio di volte a settimana. Per me è importante mantenere il mio corpo sano e in forma. È bello sentirlo. Anch'io sto cercando di rimettermi in forma. Hai qualche consiglio per rimanere motivato e mantenerti in forma? Certo, penso che la chiave sia trovare qualcosa che ti piace e continuare ad esserlo. Per quanto mi riguarda, mi piace mescolare le cose e fare diversi allenamenti come sollevamento pesi, cardio e yoga. Aiuta a mantenere le cose interessanti e previene la noia. Questa è una buona idea. Volevo provare lo yoga anch'io. Hai qualche consiglio per i principianti? Sicuramente. Consiglierei di iniziare con una lezione per principianti o di trovare un video su YouTube specifico per i principianti. Esistono molte risorse, quindi è facile trovare qualcosa che funzioni per te. Ok, ci darò sicuramente un'occhiata. Hai anche qualche consiglio dietetico per mantenerti in forma? Certo, cerco di seguire una dieta equilibrata con molta frutta, verdura, proteine magre e cereali integrali. Cerco anche di evitare cibi trasformati e bevande zuccherate. Questo è un ottimo consiglio. Dovrò cercare di incorporare queste cose nella mia dieta. Grazie per i suggerimenti. Nessun problema. È sempre bello aiutare gli altri nel loro percorso di fitness. Continuate così e buona fortuna. Lezione 12. Vai in spiaggia questo fine settimana. Ehi, hai già fatto piani per questo fine settimana? No, non ancora. Perché me lo chiedi? Beh, stavo pensando di andare al mare questo fine settimana. Dovrebbe essere soleggiato e caldo, e mi farebbe bene una pausa dalla città. Sembra un'ottima idea. Anche a me servirebbe una pausa. In quale spiaggia pensavi di andare? Stavo pensando di andare a Jones Beach. Non è troppo lontano da qui ed è una bella spiaggia con molte attività da fare. Sì, ho sentito parlare bene di Jones Beach. Cosa pensi che potremmo fare lì? Potremmo noleggiare delle biciclette e fare un giro sul lungomare, oppure potremmo noleggiare un pedalò ed esplorare la baia. Oppure potremmo semplicemente rilassarci sulla spiaggia e prendere il sole. Sembrano tutte attività divertenti. Penso che mi piacerebbe fare un giro in bicicletta ed esplorare. Che ne dici se abbiamo intenzione di incontrarci lì sabato mattina? Mi sembra una buona idea. A che ora vuoi vederci? Che ne dici di vederci alle 10 del mattino? Questo ci dà abbastanza tempo per arrivare e iniziare la giornata. Per me funziona. Non vedo davvero l'ora. Anch'io. Sarà una bella giornata in spiaggia. Lezione 13 Discutete di cosa comprare al supermercato. Ehi, hai bisogno di aiuto con la spesa? Certo, grazie. Sto cercando di decidere cosa comprare per la settimana. Posso aiutarti in questo. Cosa hai intenzione di cucinare questa settimana? Beh, voglio fare dei pasti sani, ma non so bene cosa comprare. Che ne dici di qualche proteina magra, come pollo o pesce? Puoi anche comprare delle verdure per preparare un'insalata o saltare in padella. Sembra una buona idea. Stavo anche pensando di comprare della frutta per merenda. Sicuramente. Mele, banane e uva sono buone scelte. Puoi anche comprare delle noci o del formaggio per ottenere proteine. Ottima osservazione. Devo anche comprare alcuni prodotti di base, come pane, pasta e riso. Sì, è sempre bello averli a portata di mano. Hai bisogno di snack o dessert? Non proprio, ma stavo pensando di comprare yogurt e muesli per colazione. Sembra un buon piano. Hai allergie o restrizioni alimentari? No, non proprio. Ma cerco di mangiare sano ed evitare cibi trasformati. Questo è fantastico. Cominciamo prima con le proteine e le verdure, e poi possiamo passare agli altri articoli. Lezione 14, attività dei nostri bambini. Ehi, come vanno le cose con i bambini? Oh, stanno andando bene. Grazie per averlo chiesto. Si sono tenuti impegnati con le loro attività. È bello sentirlo. In quali attività sono coinvolti in questo momento? Beh, mio figlio gioca a calcio e mia figlia prende lezioni di danza. È fantastico. Come si divertono? Sembra che lo adorino davvero. Mio figlio sta migliorando a calcio ogni giorno e mia figlia balla sempre in casa. Questo è fantastico. Hai pensato di iscriverli ad altre attività? In realtà l'ho fatto. Stavo pensando di iscrivere mio figlio al karate e mia figlia a corsi d'arte. Sembrano entrambe ottime opzioni. Il karate è un ottimo modo per i bambini di imparare l'autodisciplina e la concentrazione, e le lezioni d'arte possono aiutare con la creatività e l'espressione. Sì, sono d'accordo voglio solo assicurarmi che siano completi e abbiano la possibilità di provare cose diverse. Sicuramente. È importante che i bambini vivano una varietà di esperienze e trovino ciò che amano. Lezione 15. Mio figlio era in ritardo a scuola. Ciao, va tutto bene? Ho notato che sembravi un po' agitato stamattina. Uffa, è stata una mattinata dura. Mio figlio era in ritardo a scuola, e siamo arrivati a malapene in orario. Oh no, cos'è successo? È successo qualcosa? Non proprio. Si stava solo divertendo a prepararsi, anche se gli ho ricordato più volte di sbrigarsi. M. Può essere frustrante. Di solito è un po' lento al mattino? Sì, sfortunatamente. Non capisco perché non riesca a muoversi più velocemente, anche quando abbiamo fretta. Potrebbero essere diverse cose. Forse non dorme abbastanza la notte, o forse semplicemente non è una persona mattiniera. Questo è un buon punto. Dovrò assicurarmi che riposi abbastanza e vedere se questo aiuta. È anche possibile che si senta stressato o sopraffatto dalla scuola. Hai notato cambiamenti nel suo comportamento ultimamente? Ora che ci penso, è sembrato un po' più ansioso del solito. Forse dovrei parlare con lui e vedere se va tutto bene. Sì, è una buona idea. È sempre importante fare il check-in con i nostri figli e assicurarsi che stiano bene emotivamente, oltre che fisicamente. Lezione 16. Percorso di carriera. Ehi, hai mai pensato a quale percorso professionale vuoi intraprendere? Sì, ci ho pensato molto ultimamente. Non sono ancora sicuro di cosa voglio fare, però. Questo è comprensibile. Può essere difficile capire cosa vuoi fare a lungo termine. Sì, e sembra che tutti gli altri abbiano capito tutto. Sento di essere l'unica a non sapere cosa vuole fare. Fidati di me, non sei solo. Molte persone vivono la vita senza avere un'idea chiara di cosa vogliono fare. È normale sentirsi un po' smarriti a volte. Immagino sia vero. Ma sento di aver bisogno di capirlo presto, o rimarrò bloccata in un lavoro che odio per sempre. È sicuramente importante trovare una carriera che ti piaccia, ma va anche bene esplorare diverse opzioni e provare cose diverse. Questo è un buon punto. Hai qualche consiglio su come capire cosa vuoi fare? Beh, potrebbe essere utile pensare a ciò che ti appassiona e in cosa sei bravo. Potrebbe anche essere utile parlare con persone di diversi settori e vedere se qualcosa suscita il tuo interesse. Questa è una buona idea. Dovrò iniziare a fare qualche ricerca e vedere cosa c'è là fuori. Ricorda solo che va bene prendersi il tempo necessario e provare cose diverse. La cosa più importante è trovare qualcosa che ti piaccia e che ti renda felice. Lezione 17. Il motivo dell'appuntamento dal medico Ehi, ho sentito che avevi un appuntamento dal medico oggi. Va tutto bene? Sì, va tutto bene. Dovevo solo fare un controllo e assicurarmi che fosse tutto a posto. È bello sentirlo. Volevo andare dal medico anch'io, ma l'ho rimandato. Oh, davvero? C'è qualcosa che ti preoccupa e che devi farti controllare? Sì, ultimamente ho dei dolori al petto. Non sono sicuro che sia qualcosa di serio, ma ho pensato che probabilmente dovrei farlo controllare. Sì, sicuramente. È sempre meglio prevenire che curare quando si tratta della propria salute. Lo so, odio andare dal medico. È sempre un vero problema. Lo capisco, ma la tua salute è importante. Inoltre, è meglio individuare tempestivamente eventuali problemi prima che peggiorino. Hai ragione. Dovrò fissare presto un appuntamento e occuparmene. Buona idea e se hai bisogno di qualcuno che venga con te per aiutarti, sono qui per te. Grazie, lo apprezzo molto. È sempre bello avere qualcuno lì per calmare i nervi. Certo. Ecco a cosa servono gli amici. Lezione 18. Come riavviare un computer? Ehi, sai come riavviare un computer? Il mio sembra funzionare molto lentamente. Sì, il riavvio del computer può essere utile in questo senso. Sai come farlo? Non proprio. Di solito lo spengo e poi lo riaccendo, ma non so se sia il modo giusto per farlo. In realtà è esattamente così che si fa. Basta andare al menu Start e quindi fare clic su Chiudi sessione. Una volta spento completamente, puoi riaccenderlo, e dovrebbe essere pronto all'uso. Oh, ok. Sembra abbastanza facile. Sì, è una soluzione semplice per molti problemi comuni del computer. A volte il semplice riavvio può risolvere eventuali problemi o rallentamenti delle prestazioni. Questo ha senso. Grazie per il consiglio. Nessun problema e se il problema persiste, possiamo provare a risolvere altri problemi del tuo computer. Sarebbe fantastico. Non sono molto esperto di tecnologia, quindi potrei usare tutto l'aiuto possibile. Non preoccuparti, ho quello che fa per te. Proviamo prima il riavvio e vediamo come va. Lezione 19. Buone notizie sulla mia nuova ragazza. Ehi, volevo condividere con te delle buone notizie. Di recente ho iniziato a uscire con qualcuno di nuovo e le cose stanno andando molto bene. Si chiama Emily ed è davvero intelligente, divertente e gentile. Ci siamo incontrati alla festa di un amico comune qualche settimana fa e ci siamo subito trovati bene. È meraviglioso. Sembra che voi due abbiate un ottimo legame. Sì, lo facciamo. Abbiamo molto in comune e mi piace molto passare del tempo con lei. Sono così felice di sentirlo. È sempre bello trovare qualcuno che ti renda felice. Sicuramente. Volevo solo condividere la notizia con te perché sei un ottimo amico e apprezzo la tua opinione. Beh, sono onorato che tu ti fidi di me abbastanza da condividerlo con me. Sono felice di vederti felice. Grazie, lo apprezzo molto. Sento davvero che Emily potrebbe essere una persona speciale e sono entusiasta di vedere dove vanno le cose. Anch'io sono entusiasta per te. Ricorda solo di prendere le cose con calma e goderti il momento. Assolutamente. Non voglio fare nulla di fretta e voglio assicurarmi che siamo entrambi sulla stessa lunghezza d'onda. Questo è un buon approccio. Sono sicuro che tutto andrà alla grande per entrambi. Lezione 20. Come fare una torta. Ehi, hai mai fatto una torta prima? Sì, l'ho fatto. Perché me lo chiedi? Beh, stavo pensando di farne uno per il compleanno del mio amico, ma non so da dove cominciare. Fare una torta non è troppo difficile, ma richiede tempo e impegno. Che tipo di torta stavi pensando di fare? Stavo pensando di fare una torta al cioccolato. È il preferito del mio amico. Ok, è una buona scelta. Avrai bisogno di alcuni ingredienti di base come farina, zucchero, uova e cacao in polvere. Li hai a portata di mano? Ho della farina e dello zucchero, ma non sono sicuro degli altri ingredienti. Questo va bene. Puoi ritirarli facilmente al supermercato. Una volta che hai tutti gli ingredienti, dovrai mescolarli insieme in una ciotola, seguendo le istruzioni della ricetta. La glassa è anche abbastanza semplice da preparare. Avrai bisogno di burro, zucchero a velo, estratto di vaniglia e latte. Mescolali insieme fino a ottenere una consistenza omogenea, quindi spalmalo sulla torta una volta raffreddata. Ho capito. Penso di poterlo gestire. Grazie per i suggerimenti. Nessun problema. Cucinare può essere molto divertente e il tuo amico apprezzerà l'impegno che dedichi alla preparazione della torta. Lezione 21. Scegli un nuovo telefono cellulare. Salve, sto pensando di acquistare un nuovo telefono cellulare. Puoi darmi qualche consiglio? Certo. Cosa stai cercando in un nuovo telefono? Bene, voglio qualcosa con un grande schermo, una buona qualità della fotocamera e una lunga durata della batteria. Consiglierei di guardare gli ultimi modelli di Samsung o Apple. Entrambe le società offrono telefoni con una fotocamera di ottima qualità e una lunga durata della batteria. Tuttavia, possono essere un po' costosi. Sì, l'ho sentito dire. Esistono opzioni più convenienti? Sì, potresti prendere in considerazione l'idea di dare un'occhiata ad alcuni telefoni di fascia media di aziende come Xiaomi o Oppo. Offrono buone prestazioni e qualità della fotocamera, ma a un prezzo inferiore. Sembra una buona idea. Hai in mente qualche modello specifico? Per un telefono di fascia media con un grande schermo, una buona qualità della fotocamera, e una lunga durata della batteria, consiglierei l'OPPo Reno 5 Pro 5G o lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Grazie per i suggerimenti. Esaminerò questi modelli e li confronterò con le opzioni Samsung e Apple. Nessun problema non dimenticare di leggere le recensioni e fare qualche ricerca prima di effettuare un acquisto. Buona fortuna! Lezione 22. Aumento salariale Ehi, hai sentito parlare degli aumenti salariali quest'anno? Non ancora, ma spero che sentiremo presto qualcosa. Stavi aspettando un aumento? Sì, penso di meritarne uno. Lavoro in azienda da tre anni e mi sono assunto molte responsabilità aggiuntive. Questa è sicuramente una buona ragione per chiedere un aumento. Hai preparato il tuo caso? Sì, ho monitorato i miei risultati e ho stilato un elenco di tutto il lavoro extra che ho svolto. Ho intenzione di fissare un incontro con il mio manager per discuterne presto. È un ottimo inizio. Puoi anche cercare gli stipendi medi per la tua posizione nel tuo settore per vedere se vieni pagato in modo equo. Questa è una buona idea. Hai altri consigli per negoziare un aumento di stipendio? Direi di essere fiducioso e non aver paura di chiedere ciò che pensi di valere. Assicurati di presentare i tuoi risultati e il lavoro extra in modo chiaro e conciso. E preparati a discutere di eventuali obiezioni che il tuo manager potrebbe avere. Grazie per il consiglio. Sono un po' nervoso, ma sono anche entusiasta di poter ricevere un aumento. Sono sicuro che te la caverai alla grande. Buona fortuna con l'incontro. Lezione 23. Come posso migliorare le mie abilità matematiche? Ehi, hai qualche consiglio su come migliorare le mie abilità matematiche? Certo. Con cosa stai lottando nello specifico? Mi sento come se non fossi molto bravo in generale. Ho problemi con concetti come l'algebra e la geometria. Bene, il primo passo è esercitarsi regolarmente. Potresti provare a risolvere problemi di matematica ogni giorno per sviluppare le tue capacità e la tua sicurezza. Questa è una buona idea. Ma non so da dove cominciare. Potresti prendere in considerazione l'acquisto di una cartella di esercizi di matematica o l'utilizzo di risorse online come Khan Academy o Metei. Entrambi offrono problemi pratici e tutorial video per aiutarti a comprendere concetti diversi. Sembra utile. Ma divento nervosa anche durante i test e gli esami. Hai qualche consiglio in merito? Un modo per ridurre l'ansia da test è quello di essere ben preparati. Assicurati di studiare e revisionare regolarmente in modo da sentirti sicuro delle tue capacità. Può anche essere utile fare alcuni esercizi di rilassamento prima dell'esame, come la respirazione profonda o la visualizzazione. Grazie per il consiglio. Proverò sicuramente questi suggerimenti e vedrò se mi aiutano a migliorare le mie capacità matematiche. Nessun problema ricorda solo di essere paziente con te stesso e di non arrenderti. La matematica può essere impegnativa, ma con pratica ed edizione puoi migliorare. Lezione 24. Check-in posticipato per il nostro volo. Ehi, penso che arriveremo in ritardo al check-in per il nostro volo. Cosa dobbiamo fare? Questo non va bene. Dovremmo chiamare la compagnia aerea per informarli. Pensi che saranno in grado di tenere il volo per noi? È possibile, ma non ci conterei. Dovremmo comunque cercare di arrivarci il prima possibile. Ok, qual è il modo più veloce per raggiungere l'aeroporto? Potremmo prendere un taxi o un Uber. Sarebbe l'opzione più rapida. Questa è una buona idea. E se c'è traffico? Potremmo comunque arrivare in ritardo. In tal caso, possiamo provare a effettuare il check-in online e ottenere le nostre carte d'imbarco prima di arrivare in aeroporto. In questo modo possiamo andare direttamente ai controlli di sicurezza e saltare il banco del check-in. Ok, questo ha senso. E se abbiamo bagagli da controllare? Possiamo chiedere a un rappresentante della compagnia aerea al banco del check-in se può far salire rapidamente i nostri bagagli sull'aereo. A volte possono farlo per aiutare i viaggiatori che sono in ritardo. Questo è un sollievo. Mi sento meglio sapendo che abbiamo delle opzioni. Ricorda solo di rimanere calmo e concentrato. Possiamo ancora prendere il volo se agiamo in modo rapido ed efficiente. Grazie per il consiglio chiamiamo la compagnia aerea e andiamo. Lezione 25. Viaggio fantastico Ehi, ti ricordi il nostro viaggio in Francia il mese scorso? Certo. È stato incredibile. Il cibo, i panorami, tutto era meraviglioso. Sì, anche a me è piaciuto il cibo. Penso di aver guadagnato qualche chilo con tutti i croissant e il formaggio. Ah, anch'io. Ma ne è valsa la pena. E vi ricordate la Torre Eiffel? Era così bello di notte. Oh sì, questo è stato sicuramente uno dei momenti salienti. E ho adorato il Museo del Louvre. Li abbiamo visto così tante opere d'arte famose. Sicuramente. E siamo andati anche alla reggia di Versailles, giusto? Sì, era un palazzo così grandioso e bello. Mi sentivo come se fossi stato trasportato indietro nel tempo. E che dire della campagna francese? Lo scenario era così mozzafiato. Oh sì, le dolci colline e i vigneti erano così pittoreschi. Era il posto perfetto per un picnic rilassante. Nel complesso, è stato un viaggio fantastico. Non vedo l'ora di tornarci un giorno. Anch'io. Forse possiamo organizzare presto un altro viaggio. Sarebbe fantastico. Cominciamo a fare ricerche e pianificare la nostra prossima avventura. Lezione 26. Ti è piaciuto il nostro viaggio allo zoo? Ehi, ti è piaciuto il nostro viaggio allo zoo di ieri? Sì, è stato fantastico. Mi è piaciuto molto vedere da vicino tutti i diversi animali. Anch'io. I leoni erano così maestosi e gli elefanti erano enormi. Credo che i miei animali preferiti fossero le scimmie. Erano così giocosi e divertenti. Mi è piaciuto anche vedere i rettili, soprattutto i grandi serpenti e i coccodrilli. Erano piuttosto spaventosi, ma affascinanti. Sì, erano decisamente impressionanti. Ma devo ometterlo, mi sentivo un po' triste nel vedere alcuni animali in piccole gabbie. So cosa intendi. È importante ricordare che, sebbene gli zoo possano essere un posto divertente da visitare, gli animali sono ancora creature viventi che meritano rispetto e cure adeguate. Questo è vero. Spero che lo zoo si prenda cura degli animali e offra loro un ambiente confortevole e salutare. D'accordo. Ma nel complesso, è stata un'esperienza divertente e sono contento che abbiamo passato la giornata insieme. Anch'io. Pianifichiamo presto un'altra avventura. Lezione 27. Ottenere la patente di guida più velocemente. Ehi, hai pensato ancora a prendere la patente di guida? Sì, vorrei davvero riceverlo presto, ma non sono sicuro di come procedere. Bene, un modo per accelerare il processo è seguire un corso intensivo di guida. In questo modo, puoi imparare tutto ciò che devi sapere in un periodo di tempo più breve. Sembra una buona idea, ma non sono sicuro di avere il tempo per farlo. Lavoro molte ore durante la settimana. È comprensibile, ma alcune scuole guida offrono corsi nel fine settimana o lezioni serali che potrebbero adattarsi meglio al tuo programma. Oh, non lo sapevo. Dovrò dare un'occhiata. Un'altra cosa che mi preoccupa è l'esame di guida. Ho sentito che può essere piuttosto difficile. Sì, può essere impegnativo, ma con la pratica e la preparazione, sono sicuro che te la caverai alla grande. Potresti anche prendere in considerazione l'assunzione di un istruttore di guida per aiutarti a prepararti per il test. Questa è una buona idea. Voglio assolutamente assicurarmi di essere completamente preparato prima di fare il test. Assolutamente. E ricorda che ottenere la patente di guida ti darà più libertà e indipendenza, quindi vale la pena di ottenerla il prima possibile. Grazie per il consiglio inizierò a esaminare quei corsi intensivi e vedrò cosa funziona per me. Lezione 28. Ridurre le dimensioni del file Excel Ehi, sei riuscito a ridurre le dimensioni del file Excel su cui stavamo lavorando? Non proprio. Ho provato a eliminare alcuni dati, e a ridurre il numero di fogli, ma la dimensione del file è ancora troppo grande. Un'opzione è comprimere il file. Excel dispone di uno strumento di compressione integrato che può ridurre le dimensioni del file. Oh, non lo sapevo. Come faccio a comprimere il file? È semplice. Basta andare al menu File, fare clic su Salva con nome, quindi scegliere l'opzione per salvare il file come file compresso. Ciò ridurrà le dimensioni del file senza compromettere i dati. Questo è un ottimo consiglio. E se non funziona? Un'altra opzione è rimuovere qualsiasi formatazione non necessaria, come i bordi delle celle o l'ombreggiatura, poiché possono occupare molto spazio. Puoi anche provare a rimuovere immagini o grafici che non sono essenziali per i dati. Ok, proverò questi suggerimenti. C'è qualcos'altro che posso fare? Sì, puoi anche provare a salvare il file in un formato diverso, ad esempio csv o txt, che in genere sono tipi di file più piccoli. Va bene, ci proverò. Grazie per l'aiuto. Lezione 29. Il modo di aumentare il reddito mensile. Ehi, hai pensato a come aumentare le tue entrate ultimamente? Sì, l'ho fatto. Ho cercato di risparmiare di più, ma voglio anche trovare modi per guadagnare di più. Un modo per guadagnare di più è quello di assumere un lavoro secondario o avviare una piccola impresa. In questo modo, puoi avere una fonte di reddito aggiuntiva al di fuori del tuo normale lavoro. Ci ho pensato, ma non sono sicuro di avere il tempo di impegnarmi in un lavoro o in un'attività secondaria. Un'altra opzione è investire i tuoi soldi con saggezza. Potresti iniziare aprendo un conto di risparmio o investendo in azioni, che possono generare entrate passive nel tempo. Sembra interessante. Hai qualche consiglio su come iniziare? Certo. Inizia facendo qualche ricerca e informandoci sulle diverse opzioni di investimento. Potresti anche prendere in considerazione la consulenza di un consulente finanziario per ottenere una consulenza esperta. Ok, farò qualche ricerca e vedrò quali sono le mie opzioni. Grazie per il consiglio. Nessun problema ricorda che è importante essere pazienti e prendere decisioni informate quando si tratta di investire. Buona fortuna. Va bene, ci proverò. Grazie per l'aiuto. Lezione 30. Memoria infantile Hai qualche ricordo d'infanzia che ti sta a cuore? Sì, lo so. Uno dei miei ricordi più belli, è quando la mia famiglia era solita andare in campeggio in estate. Trascorrevamo giorni a fare escursioni, nuotare e arrostire marshmallow accanto al fuoco di notte. Sembra molto divertente. Ricordo di aver giocato con i miei fratelli e amici nel parco vicino a casa nostra. Giocavamo a nascondino, etichettavamo e persino costruivamo fortezze con rami e foglie. Sembra un ottimo modo per passare del tempo con gli amici. Ricordo anche di aver passato ore a giocare con le mie bambole, e a creare mondi immaginari per loro. Mi piaceva costruire modellini di aeroplani e auto. È stato un hobby così divertente e stimolante che mi ha tenuto occupato per ore. È incredibile come questi ricordi di infanzia rimangano con noi per tutta la vita. Ci ricordano la gioia e la meraviglia di essere bambini. Assolutamente. Penso che sia importante conservare questi ricordi e trasmetterli alle generazioni future in modo che possano provare le stesse gioie che abbiamo provato noi. Sì, sono d'accordo. I ricordi di infanzia sono davvero speciali e qualcosa da custodire. Lezione 31. Servizio di corriere. Hai mai usato un servizio di corriere prima? Sì, l'ho fatto. L'ho usato alcune volte per inviare documenti e pacchi importanti in diverse città. Questo è interessante. Com'è stata la tua esperienza con il servizio di corriere? È stato abbastanza buono. Sono stati molto professionali ed efficienti. Il pacco è stato consegnato in tempo e in buone condizioni. È bello sentirlo. In passato ho anche utilizzato un corriere per inviare un regalo di compleanno a un mio amico che vive in un'altra città. Il pacco è arrivato in tempo e il mio amico ha adorato il regalo. È meraviglioso. Penso che i servizi di corriere siano molto convenienti e affidabili, soprattutto quando è necessario inviare qualcosa con urgenza o in una località lontana. Sì, sono d'accordo. Sono un'ottima alternativa ai servizi di posta tradizionali, soprattutto quando è necessario tracciare il pacco e assicurarsi che raggiunga la destinazione in modo sicuro. Assolutamente. Oggigiorno è anche molto facile prenotare un servizio di corriere con piattaforme online e app mobili. Questo è vero. Rende l'intero processo molto comodo e senza problemi. Sicuramente userò nuovamente un servizio di corriere in futuro. Anch'io. È un ottimo modo per rimanere in contatto con le persone e inviare cose importanti, indipendentemente da dove si trovino. Lezione 32. Hai visto la partita di calcio ieri sera? Hai visto la partita di calcio ieri sera? Sì, l'ho fatto. È stata una partita fantastica. Per quale squadra stavi tifando? Facevo il tifo per la squadra di casa. Hanno giocato davvero bene. Sì, l'hanno fatto. Ma anche la squadra ospite era molto forte. È stata una partita combattuta fino alla fine. Questo è vero. È stato davvero emozionante da guardare. Sono rimasta con il bordo del sedile tutto il tempo. L'attaccante della squadra ospite è stato davvero impressionante. Ha segnato due gol e ha quasi ottenuto una tripletta. Sì, era sicuramente l'uomo della partita. Ma anche la difesa della squadra di casa è stata molto solida. Sono d'accordo hanno fatto un ottimo lavoro nel tenere a bada l'attacco della squadra ospite. Anche il portiere ha fatto delle parate incredibili. Nel complesso, è stata una partita molto equilibrata. Entrambe le squadre hanno giocato davvero bene. Sì, era un'ottima pubblicità per il calcio. Sono giochi come questi che rendono questo sport così popolare in tutto il mondo. Assolutamente. Non vedo l'ora di guardare la prossima partita tra queste due squadre. Sarà un altro entusiasmante. Lezione 33. Il posto migliore per viaggiare al mondo. Quindi, quale città pensi sia la migliore per viaggiare al mondo? Questa è una domanda difficile. Ci sono così tante città meravigliose là fuori. Sì, lo so. Ma se dovessi sceglierne uno, quale sarebbe? Personalmente, amo davvero Parigi. L'architettura, il cibo, i musei, tutto è così bello. Capisco perché lo dici. Parigi è sicuramente una scelta popolare tra i viaggiatori. Che mi dici di te? Quale città sceglieresti? Per me, deve essere Tokyo. È una città come nessun'altra al mondo. La miscela di cultura tradizionale e moderna è semplicemente affascinante per me. Non sono mai stato a Tokyo, ma ho sentito che è incredibile. Il cibo e la tecnologia dovrebbero essere davvero impressionanti. Assolutamente. E le persone lì sono così gentili e amichevoli. È davvero un'esperienza unica da visitare. Posso sicuramente capire perché lo dici. È incredibile come culture diverse possano offrire prospettive così diverse sui viaggi. Sì, questo è il bello. Non esiste una città migliore in cui viaggiare. Tutto dipende da ciò che ti parla personalmente. Lezione 34. Perché eri assente ieri? Ehi, ho notato che non eri al raduno ieri. Cosa è successo? Oh, mi dispiace di non essere potuto venire. Avevo un lavoro inaspettato che doveva essere completato con urgenza. Va bene, mi stavo solo chiedendo se andasse tutto bene. Però ci sei mancato. Grazie, è molto gentile da parte tua dirlo. Com'è andato il raduno? È stato bello, ci siamo divertiti. Abbiamo parlato di molte cose diverse e ci siamo incontrati. Sembra che sia stato divertente. Mi dispiace di essermelo perso. Nessun problema, ci saranno altri raduni in futuro. Spero però che vada tutto bene con il tuo lavoro. Sì, era solo qualcosa che richiedeva la mia attenzione immediata. Ma ora è tutto a posto. È bello sentirlo. Speriamo di vederti al prossimo incontro. Sicuramente, mi assicurerò di chiarire la mia agenda. Grazie per avermi controllato. Lezione 35. Il modo per migliorare l'inglese. Ehi, ho notato che stai cercando di migliorare il tuo inglese. Come va? Va bene, ma sento di avere ancora molta strada da fare. Capisco, imparare una nuova lingua può essere difficile. Hai provato qualche metodo specifico per migliorare il tuo inglese? Ho esercitato la mia grammatica e il mio vocabolario leggendo libri e articoli, guardando film con sottotitoli in inglese e ascoltando podcast. Sono ottime idee. Un'altra cosa che potresti provare è parlare con persone di madrelingua inglese o unirti a un gruppo di conversazione in inglese. Questo è un buon suggerimento. Ci darò un'occhiata. Inoltre, non aver paura di commettere errori. È una parte naturale del processo di apprendimento e più fai pratica, più diventerai sicuro di te stesso. Hai ragione. Devo smettere di preoccuparmi di commettere errori e fare pratica di più. Assolutamente. E ricorda che migliorare il tuo inglese richiede tempo e pazienza, quindi non scoraggiarti se non vedi subito i risultati. Grazie per il consiglio. Lo apprezzo molto. Continuerò a fare pratica e spero di poter migliorare presto il mio inglese. Lezione 36. Ho perso il portafoglio. Ehi, che succede? Penso di averlo perso mentre andavo al lavoro stamattina. L'ho cercato ovunque, ma non riesco a trovarlo. Hai controllato le tasche e la borsa? Sì, l'ho fatto. Diverse volte. Ho persino ripercorso i miei passi per vedere se l'avevo lasciato cadere da qualche parte. Hai chiamato la banca per cancellare le tue carte di credito? Sì, l'ho fatto non appena ho capito che mi mancava il portafoglio. Ho anche segnalato lo smarrimento della mia carta d'identità. Mi dispiace sentirlo. Hai bisogno del mio aiuto? In realtà sì. Puoi prestarmi del contante finché non risolvo la situazione con la mia banca, e ottengo una nuova carta di credito? Certo, nessun problema. Quanto ti serve? Quanto basta per pagarmi fino a domani? Forse 50 dollari. Ok, eccoti. Fammi sapere se c'è qualcos'altro che posso fare per aiutarti. Grazie mille. Lo apprezzo davvero. Lezione 37. Questo parco è bellissimo. Wow, questo parco è bellissimo. Gli alberi e i fiori sono così colorati. Lo so, giusto? E il suono degli uccelli è così pacifico. È un giorno perfetto per stare all'aperto. Il tempo è perfetto. Assolutamente. E adoro come ci siano così tante famiglie e coppie che si godono il parco. Sì, è bello vedere tutti qui che si divertono. Qual è la tua parte preferita del parco? Adoro il lago laggiù. È così calmo e sereno. È un ottimo posto. E mi piace come ci siano così tante panchine e tavoli da picnic sparsi per il parco. Sì, è un ottimo posto per rilassarsi e fare un picnic. E sembra che i bambini si divertano un mondo al parco giochi. Sicuramente. È bello vedere così tanto spazio verde nel centro della città. Sono d'accordo questo parco è davvero un gioiello. Lezione 38. Hai mai avuto un virus informatico? Ehi, hai mai avuto un virus informatico prima d'ora? Purtroppo sì. È stato un enorme mal di testa da affrontare. Sì, ne ho bevuto uno anche di recente. Ho scaricato per sbaglio un software a cui era associato un virus. Questo è duro. Cosa hai fatto per ripararlo? Ho provato a eseguire una scansione antivirus, ma non ha rilevato tutto. Quindi, ho dovuto ripristinare il sistema a un punto prima che il virus entrasse. Ha funzionato? L'ha fatto, per fortuna. Mi sono anche assicurato di installare un software antivirus migliore in seguito per evitare che accadesse di nuovo. Ottima scelta. È sempre meglio essere proattivi quando si tratta di proteggere il computer. Assolutamente. Ho imparato la lezione nel modo più duro. Lezione 39. Il nostro nuovo vicino Ciao, hai già conosciuto il nostro nuovo vicino? No, non ho ancora avuto modo di conoscerli. Perché? Li hai già incontrati? Sì, l'ho fatto. Sembrano persone davvero simpatiche. Si sono presentati e si sono persino offerti di aiutarmi a spostare alcune scatole in casa mia. È bello sentirlo. È sempre bello avere dei vicini amichevoli. Che aspetto avevano? Sono una giovane coppia sulla trentina. L'uomo è alto con i capelli corti e la donna ha i capelli lunghi e ricci. Oh, credo di averli visti ieri. Stavano scaricando un camion per traslochi, giusto? Sì, sono loro. Sembrano molto orientati alla famiglia e con i piedi per terra. Dovremmo invitarli a cena qualche volta. È un'ottima idea. Sarebbe bello conoscerli meglio. Hai qualche suggerimento su cosa cucinare? Forse potremmo fare un potluck e tutti portano qualcosa. In questo modo possiamo provare diversi piatti e non sarà troppo faticoso per nessuno. Questa è una buona idea. Preparerò un'insalata e magari degli antipasti. Che mi dici di te? Preparerò del pollo e delle verdure alla griglia. Sto abbastanza bene alla griglia. Sembra delizioso. Quando dovremmo invitarli? Che ne dici di sabato prossimo? Questo dovrebbe dare loro abbastanza tempo per ambientarsi e potremo conoscerci meglio. Perfetto. Parlerò con loro la prossima volta che li vedo e glielo farò sapere. Non vedo davvero l'ora. È bello avere dei buoni vicini. Lezione 40. Il programma televisivo preferito. Ehi, hai guardato qualche buon programma televisivo ultimamente? Sì, l'ho fatto. Ho appena iniziato a guardare questa nuova serie chiamata The Crown. È un dramma storico sulla vita della regina Elisabetta II. Oh, ne ho sentito parlare. Non l'ho ancora visto, ma sembra interessante. Cosa ti piace a riguardo? Beh, mi piace molto conoscere la storia della famiglia reale e gli eventi politici di quel periodo. Lo spettacolo ha anche un incredibile valore di produzione e la recitazione è eccezionale. Sembra fantastico. Ho guardato questo programma chiamato Breaking Bad. Parla di un insegnante di chimica del liceo che inizia a cucinare e vendere metanfetamine per mantenere la sua famiglia dopo che gli è stato diagnosticato un cancro. Oh wow, sembra intenso. È buono? Sì, è davvero buono. La trama è molto coinvolgente e la recitazione è di prim'ordine. Lo spettacolo ha vinto tantissimi premi, inclusi diversi emi. Dovrò dare un'occhiata. Hai altri consigli? Lasciami pensare. Oh, hai visto Stranger Things? È una serie di fantascienza e horror ambientata negli anni Ottanta. Sì, l'ho fatto. Mi è piaciuto molto. I personaggi sono così ben sviluppati e la trama è davvero intrigante. Sono completamente d'accordo. Lo spettacolo ha un ottimo mix di umorismo, suspense e cuore. Non vedo l'ora che esca la prossima stagione. Lo stesso qui. È sicuramente uno dei miei programmi preferiti. Grazie per aver guardato. Iscriviti al nostro canale e guarda altri video dal nostro canale. Ciao. 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 Grazie a tutti